Il Comitato Promotore e il Movimento Frippiano di Sorrento hanno avviato l'iter di petizione popolare per l'istituzione del question time del cittadino nel nostro comune. In sintesi, di cosa si tratta? Il question time cittadino consiste nel rivolgere domande dirette al sindaco, agli assessori e, o, ai consiglieri delegati, su argomenti di pubblica utilità, che riguardino temi amministrativi locali di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale. Chi può porre queste domande? Qualsiasi semplice cittadino, singolarmente, in comitato, o in associazione. Bisogna rivolgersi ad un consigliere comunale? Assolutamente no. Affinché ci sia risposta, basterà protocollare una semplice domanda indirizzata al presidente del Consiglio Comunale. Ma cos'è, una novità? Niente affatto. Il question time è uno strumento adottato da molti comuni italiani, e Piano di Sorrento può essere il primo comune del comprensorio a renderlo operativo. Perché è importante? Affinché tutti i cittadini possano avere la possibilità di partecipare, senza che i propri quesiti debbano necessariamente trovare risconto in una componente consigliare. Inoltre per le associazioni sarà più semplice ottenere risposte in maniera diretta e senza intermediazioni. Allora non indugiare, ti aspettiamo ai nostri banchetti, e presso i punti di raccolta. Firma anche tu la petizione per dare la possibilità, a tutti i cittadini di Piano di Sorrento, di partecipare attivamente alla vita amministrativa della città. Grazie a tutti i cittadini di Piano di Sorrento, di partecipare attivamente alla vita amministrativa della città. Grazie a tutti i cittadini di Piano di Sorrento.